buongiorno nella sedicesima domenica del tempo ordinario il vangelo di matteo continua al capitolo 13 il discorso di gesù in parabole e dal versetto al 24 al versetto 43 ci propone tre parabole conosciute come la parabola del grano e della zizzania la parabola del granello di senape e la parabola del lievito nella massa dopo averle raccontate gesù spiega su richiesta dei discepoli la prima delle tre parabole il che indica che dobbiamo guardare insieme questo complesso di testi di proposte che gesù ci dona per raccontarci del regno di dio è il regno di dio l'oggetto di questo vangelo la domanda che ci possiamo porre è proprio quella che muove gesù nella sua predicazione e nella sua azione che cos'è il regno di dio ecco non è descrivibile con una definizione bensì con una serie di racconti che ci introducono al mistero di una presenza il regno di dio è gesù stesso inviato dal padre a instaurare una relazione autentica con noi ma il regno di dio appunto sta nel mondo è qui che inizia che viene seminato come germe che vuole dare vita ecco allora che le parabole ci presentano la dinamica di questo mistero in particolare dunque la parabola del grano e della zizzania che gesù descrive come l'azione del signore che semina nel campo del mondo il seme buono della parola i figli del regno e invece il maligno che di nascosto di notte sparge la zizzania per rovinare quest'opera meravigliosa il campo del mondo dunque ma noi potremmo anche dire che è il campo del nostro cuore ecco gesù ci vuole far comprendere che nel nostro cuore nella storia vi è una convivenza del bene e del male e dunque non dobbiamo avere fretta a descrivere in bianco e nero ciò che avviene dentro di noi spesso le tensioni le contraddizioni che sperimentiamo ci spaventano recogliamo in tanti modi in tanti momenti dai affetti ai pensieri dalle decisioni alle scelte che facciamo ci troviamo spesso in contrasto spinti da forze che perfino sembrano opposte tra loro le chiamiamo appunto il bene e il male ecco allora che siamo siamo tentati a eliminare di un colpo solo ciò che ci fa fare fatica ciò che percepiamo come negativo gesù ci pone in guardia non sia mai che dalla fretta non ci rendiamo conto di quello che è più importante di quello spazio di bene che forse è più in profondità a volte un dolore una fatica sono solamente il guscio che maschera e che nasconde il bene che nel germe si tratta di attraversarlo forse di romperlo certamente di portarlo affinché possa sprigionarsi la potenza della vita racchiusa anche dentro le situazioni faticose difficili guardare il nostro cuore con pazienza accettarci comprendere che la tensione fa parte di noi che siamo creature finite limitate peccatori ma con un sogno d'infinito dentro di noi con l'immagine di dio il dio eterno che ci abita ed è in questa tensione che stiamo costantemente il regno di dio si realizza lì nell'accoglierci nell'accogliere gli altri nell'accogliere anche la storia che è appunto segnata da questi germi di bene sparsi anche dove vi è cattiveria e malvagità che è una storia che ha bisogno di un lievito di bontà che continui ad operare decidere di spaccare in qualche modo l'uomo e la storia in due tra buoni e cattivi è rischioso perché potrebbe portarci ad eliminare proprio quanto vi è di bene dentro il terreno del mondo e del nostro cuore oggi dunque Gesù in queste parabole ci manifesta la sua immensa fiducia in noi perché sa quelli che sono appunto i nostri limiti nell'accogliere l'attenzione della vita e ci ripropone la fiducia di essere noi terreno sul quale dentro il quale anzi il signore l'agricoltore non si stanca di seminare bene e bontà e se anche vi sono tentazioni e spiragli di malvagità che ci insidiano è certamente il grano buono che può vincere perché è innestato nel seme di cristo sparso nel mondo e sepolto per poi germogliare la vita eterna nella risurrezione noi partecipiamo della potenza di vita del risolto buona domenica a tutti in questa estate di bene intrecciato al male ma comunque vincente